allora il piatto del giorno è uova strapazzate con asparagi e più questa qua che è crema di asparagi tartufata e pane arrosto non è male per essere un'imoca e adesso dopo un buon pasto mi faccio un riposino perché qua c'è ancora da mettere carbone nella locomotiva se vogliamo di avvicinare sul gruppo